Sì, ero solo perché i ragazzi, chiamiamoli così, cresciuti, avevano fatto piazza pulita di tutti gli insegnanti, proprio li avevano buttati fuori tutti, però a un certo punto hanno sentito, insegnavano tutto, ma la tecnica cinematografica ci voleva uno che la sapesse, e allora mi hanno chiamato, mi hanno chiamato, io Rossellini lo conoscevo solo di così, perché l'avevo incontrato due o tre volte, perché poi io ero piuttosto schivo a conoscere le autorità, perché mi davano soggezione un po', e insomma a questo Rossellini dopo un po' che parlavamo ho visto che andavamo d'accordo, e allora là io sono rimasto un anno da solo, di tutto il centro, non c'era nessuno, io solo, e Rossellini naturalmente, e poi aspetta uno che era simpatico, di Gian Matteo, di Gian Matteo, bravo, bravo, comunque i ragazzi erano due cose, un gruppo non voleva più nessun insegnante, perché avevano un ricordo terribile degli insegnanti, capisci? E un altro gruppo accettava gli insegnanti, e allora modestamente, perché erano delle iene scatenate, capisci? Ho cominciato a prenderli e a cercare di inventare un sistema di insegnamento differente, perché guai se si copiava il passato, e abbiamo ragione, perché praticamente non facevano niente, andavano là, riscuotevano, c'era un numero di gente che riscuoteva come assistente, allora non avevi idea, ma c'eri già tu? Sì, c'è. C'eri già? Beh, allora è inutile che racconti. E poi dall'esterno cominciavano a venire delle pompate dal ministero, eccetera, che non era giusto tenere una persona sola, mentre per insegnare la fotografia, io a Pasolini ho insegnato la fotografia da solo, e il risultato alla fine era diventato bravo, perché lui in principio era partito con l'odio per la fotografia, sì, lui diceva sempre che sperava l'invenzione di una macchina piccola senza pensare che il cinema è una cosa collettiva, più mi allontano e più capisco che era una cosa collettiva, anche quello che facevo io, era sempre accompagnato da altri, anche se non volevo, perché proprio, io mi ricordo che c'era un macchinista che si faceva mettere sempre sul ponte, e in quell'epoca stavano facendo molti film americani, antichi romani, quelle cose là, e lui sapeva la storia romana meglio del regista, capisci, e ogni tanto quando c'era l'intervallo sentivi sta voce che veniva dal ponte e che diceva no, è sbagliato quello, però alla fine aveva ragione lui, capisci, no, il ministero era legato al regolamento e non pensava che era necessario cambiarlo, un po' come adesso, così, e allora faceva pressione e il nostro direttore, mi ricordo, Fioravanti, che sembrava, non so, una barchetta in alto mare, che poi non poteva dar torto a Rossellini, è impossibile, d'altra parte non poteva neanche dar ragione ai ragazzi che volevano buttare per l'aria tutto, capisci, e quindi era questa situazione, però io modestamente me la son cavata abbastanza bene, perché alla fine era un reparto, naturalmente non era più come prima, ma sai, molte volte prima c'erano i ragazzi che passavano il tempo a giocare la carta, perché non c'erano neanche gli insegnanti, se c'eri tu ti ricorderai, una cosa del genere, invece io c'ero sempre, e poi hanno cominciato a venire delle persone che erano del sistema, chiamiamolo così, anche se non è vero, capisci, erano del sistema, e i ragazzi li accettavano, questi arrivavano facendo i rivoluzionari, naturalmente, e il primo mi pare sia stato aperto, intanto erano due, perché il ministero aveva un suo programma ben preciso e ha avuto ragione del ministero, perché ha vinto loro, ora, i ragazzi, c'era una parte, erano, non dico moderati, ma erano d'accordo di costruire certe cose, non buttando via tutto quello che c'era, c'era una parte che non voleva niente, e che poi stranamente non sono riusciti a avere grande successo, quando sono andati sulla piattaforma, hanno avuto delle difficoltà, però è ritornato quasi come prima, mai come prima, però quasi come prima, con tutto quello che è successo. Io ho continuato a insegnare, ho continuato a fare le mie battaglie, che erano, l'ultima battaglia è che volevo insegnare un sistema che faceva fare un passo avanti alla teoria cinematografica. e difatti era quella che serviva per fare i cartoni animati, con le tecniche e cose, difatti mi hanno passato ai cartoni animati. Sì, al corso di cinema di animazione. Che lo faceva Giannini, faceva Giannini, e poi io facevo tutte le cose che non sapeva lui, ci si scambiava in questo modo, soltanto a un certo punto io volevo insegnare la fisica di Bull agli allievi, che è indispensabile per il digitale, no? Si sono opposti, si sono opposti perché non la sapevano loro, capisci, solo per questo. E là c'è stato un battibecco, io non ho mollato naturalmente perché avevo ragione, che è come tu insegna una volta a fare le aste, perché io sono ancora di quelli che fanno le aste. E non mi ricordo che cosa sia successo, è venuto Bini, che è stato tutto quello che vuoi, però del cinema era uno bravissimo, perché io poi ho lavorato nei film di Pasolini con Bini, e ti dico che intanto non era uno che interveniva, perché credo che il cinema lui ne abbia fatto poco, perché era un teatrante lui prima, però era intelligente, indubbiamente era molto intelligente, e mi è piaciuto che si sia suicidato, quello mi ha dato un fastidio, io sono contro il suicidio a dire, perché penso che sia una forma di defezione più che altro, no? Di fatti sono ancora qua. Dunque è arrivato Bini, il quale non ha fatto nessuna rivoluzione, però ha inquadrato il centro sperimentale che sembrava una cosa di sperduti, sembrava, e con questo le cose funzionavano. E se non che sono venuti fuori i partiti, tutte queste belle cose, contro Bini, eccetera, e io con grande meraviglia di tutti ho appoggiato Bini, perché aveva messo, per esempio, aveva tolto tutti quegli aiuti, aiutetti, aiutini che c'erano, che erano soltanto della gente legata a dei gruppi, che era meglio non avere. È stato proprio per l'algebra di Bull, che io avevo cominciato a insegnare, anche se loro dicevano di no. Ho insegnato lo stesso, poco tempo, perché poi mi hanno costretto ad andare via. Perché, capisci, sarebbe come studiare l'aritmetica senza studiare la legge dei numeri, per dirti. Una cosa del genere che non ha senso, no? Ma il motivo era che nessuno sapeva l'algebra di Bull. E allora c'era un buon motivo per mettermi da parte. Io non volevo andare via, ma a un certo punto è diventata più forte di me, perché hanno mandato via Bini, che era quello che mi teneva, no? E così sono uscito dal centro e mi è spiaciuto, ti dirò, perché ero affezionato, però affezionato ai ragazzi, soprattutto, ma anche a certi amici che lavoravano nel centro, si era legati. Sai, sono sciocchette, ma sono cose che contano molto in una persona, no? Comunque ho trovato a lavorare moltissimo, non ho mai avuto punti neri nella mia attività. Ma non è che mi dava molta fiducia. Ah no? No, perché non so come mai... Sai, quando tu stai a un centro sperimentale come quello, che era un buon centro, che per me era un buon centro sperimentale, come un centro sperimentale che ti dava delle possibilità che nessuna scuola di cinema ti dava. Io ho imparato a odiare i cambiamenti. Perché... Non mi è mai passata la voglia di insegnare, che mi piaceva insegnare, mi è sempre piaciuto, perché penso che sia una delle funzioni dell'uomo che ha una certa cultura, di una materia o dell'altra, la stessa cosa. Credo che la più grande soddisfazione sia dare agli altri quello che hai tu invece, capisci? E ho sempre trovato degli allievi che hanno... Non tutti, perché certi, specialmente le donne, non so perché... Io non ho niente con le donne, ma le donne sono sempre state con me un po' così, perché io non ho mai fatto l'amore con le donne, come certuni. Ma Grazini ha tentato un esperimento da giornalista, secondo il mio punto di vista. Però... Con me non andava molto ancora. Anche nei rapporti... tra amici, capisci? Credo che ci sia un modus vivendi che bisogna sempre applicare, perché non bisogna mai vedere in quello che ti sta davanti un nemico, perché se vedi un nemico, già in partenza lo prendi da un verso che non è giusto prendere, capisci? E questa è una cosa che... Invece, al contrario, ho avuto tanta gente nemica. Especialmente quando c'è stata la storia della matematica di Bull, addirittura mi prendevano in giro e non c'era niente da prendermi in giro, capisci? Comunque quella mi ha messo in situazione che a un certo punto, quando è andato via Bini, e hanno cercato di impormi di non fare queste cose, io me ne sono andato. Mi è piaciuto, sai, non ho idea come mi è piaciuto, non perché c'era la paga che ti davano, eccetera, così, no? Perché io guadagnavo lo stesso, se volevo. Ho perfino lavorato sul Mangusta, e credo sia raro. Effettivamente era una cosa molto difficile, perché dovevamo considerare la deformazione che subisce un aereo sparando determinati missili, eccetera, così. Ero io un altro. Era un lavoro molto difficile, avrò studiato sei, sette mesi per arrivare. Io ho fatto fino al quarto anno di ingegneria meccanica. Dopo mi hanno chiamato alle armi. E siccome mi hanno mandato in un posto dove era scomodo studiare, praticamente sono stato... E poi siccome io volevo, ma anche se non ero assolutamente d'accordo con la guerra, con tutte quelle cose là e con il fascismo, logicamente, ho sempre cercato di attenuare questi due scontri, perché l'importante era insegnare, fare che uno che viene senza sapere niente o sapendo poco esca in condizione di non sentirsi a disagio davanti a una macchina appresa. Hai capito? Questo era il mio modo di pensare. Naturalmente discussioni con i colleghi. Erano due anni più uno se volevano fare quest'anno e lo chiamavano mi ricordo supplementare, qualcosa del genere. Adesso invece i corsi durano tutti tre anni. Beh, ci sono più stipendi così da fare. Per gli allievi bastano due anni secondo te o ce ne vogliono tre o forse anche quattro non so, secondo te come... Dunque ti dirò noi avevamo un anno speciale che lo faceva chi voleva farlo e che non era poi tanto malvagio anche se per conto mio il difetto della maggioranza degli insegnanti del centro è che non erano degli attivisti. In questo senso io facevo il centro ma la mia maggiore attività era fare l'operatore. Io lavoravo sempre lavoravo in modo sconsiderato perché io penso che ho fatto un lavoro per i giapponesi no? No i giapponesi ma sono la stessa cosa i svizzeri e sono stato quattro anni e mezzo in Svizzera e facevo sedici ore al giorno di lavoro bene e gli ho costruito una scuola ricavandola da un rifugio atomico e questa scuola insegnava quello che volevo io capisci? No che volevo io che era giusto insegnare e difatti so che sono venuti anche da dal centro sperimentale a vedere questa scuola come era gli svizzeri hanno un difetto che sono attaccati ai soldi però sono molto precisi molto più di noi capisci? e se tu a me pagavano benissimo ti dico benissimo ho mai guadagnato tanto e lavorato tanto perché la media era sedici ore al giorno e poi c'era la riunione che tenevo perché ero diventato una specie di capo anzi ero il direttore tecnico del corso e allora li riunivo in maniera che veniva una commistione tra tutte le idee e le cose e riuscivamo sono venuti anche molti stranieri a vedere questa cosa e c'è ancora l'ha presa la televisione svizzera quelli che escono dalla televisione svizzera escono da questa organizzazione a Lugano io l'ho presa che era privata erano due italiani e uno svizzero e io sono rimasto quattro anni e mezzo dopo quattro anni e mezzo gli italiani visto che non si guadagnava abbastanza se ne sono andati via era presa in mano il cantone il cantone la scuola funzionava modestamente perché c'ero io che imponevo gli insegnanti e andavo a cercarli dappertutto la maggioranza naturalmente italiani anche perché ero convinto che gli italiani sapessero fare il cinema quando lo facevano perché l'italiano è un cialtrone tutto quello che vuoi però ha delle idee è difficile trovare un italiano che si impegna in un lavoro che è impegnativo il cinema non c'è niente da fare a meno che tu non voglia perdere il tempo diventare miliardario a me non è mai successo comunque la scuola andava molto bene mi ricordo che è venuto che era il l'addetto della RAI per la scuola mi pare l'addetto scuola era della democrazia cristiana ma non di quelli che rompono le scatole è venuto a trovarmi per vedere la cosa gli ho fatto vedere è tornato via entusiasta siamo diventati amici quando c'è stata questa cosa Ebini si è dimesso perché non accettava di rifare la cosa con i cento assistenti delle cose così e voleva impostare come ha sempre fatto i suoi film era severissimo nei suoi film Ebini però era uno che capiva lui veniva dal teatro o meglio veniva dal fascismo era stato a Coltano che tu saprai che cos'era era la prigione di quelli che erano stati coi fascisti dopo quel coso e lui era andato insieme era un bersagliere del luce era e quando è venuto ha capito che era un'idiozia però lui continuava a dire che era fascista continuava a dirlo non una voce alta ma perlomeno lo diceva e ti dirò che obiettivamente a parte questo coso che non faceva pesare le cose di fatti aveva preso anche a me capisci e lui mi aveva preso perché io prima lavoravo in uno stabilimento che faceva tutto si chiamava BNC Filmeco l'avrai sentita nominare ecco io ero il dirigente il capo tecnico e là ho imparato un sacco di cose e poi loro era un comandante che poi ho saputo che era un agente della CIA che era molto staccato così però ti faceva fare tutto quello perché lui non sapeva niente di cinema allora se gli mostravi una cosa era intelligente comunque questa cosa qua a un certo punto sono diventato il capo di questa combricola e lui aveva fatto allora c'è la scarsità di direttori della fotografia e tecnici in genere perché erano una specie di clan che si passavano i lavori per cui c'era una scarsità pari e alte una scarsità di personale e anche una difficoltà mancava la concorrenza che è comoda anche nella guida di una cosa dello Stato la concorrenza insomma sono stato lì e noi facevamo siccome non c'erano operatori alla macchina no operatori alla macchina operatori in genere perché gli operatori esistenti cercavano di fare una specie di jumping hai capito ecco c'è quel gruppo e basta allora non c'erano mai posti allora quando un film funzionava funzionava fino che c'erano gli attori di prima di primo piano dopodiché gli attori che rimanevano se ne andavano e andavano a fare un altro film sempre sostenendo i costi non era brutto dal punto di vista loro la faccenda e allora noi abbiamo pensato di rompere questo clan e ho organizzato io conoscevo uno che poi si è scoperto che aveva una casa una casa quando è venuta la legge della Merlin no? si è scoperto che lui aveva una casa hai capito? io non devo dire niente era bravissimo andava sempre in America non so per che motivo tornava così praticamente merito su se ci sono le ancora usano le par come lampade perché lui andando la è venuto su è venuto da me e mi ha portato una coppia di di questo sistema di illuminazione che che allora era comodo perché muovere intanto i gruppi elettronici erano pochissimi e poi era carissimo e lui ha portato sta cosa e allora abbiamo cominciato ad andare a girare con le lampade e la corrente delle cose in maniera che andavamo nelle case attaccavamo la spina e avevamo l'alimentazione capisci e questo è stato il io ho lavorato moltissimo in questo campo perché io sono stato devo dirlo un lavoratore io ho sempre lavorato sì perché mi piaceva proprio fare le cose sta di nozio a me anche adesso cerco di fare le cose solo a un certo punto mi cade un pezzo e allora arriva mio padre e dice ma te l'ho detto che ormai sei un vecchio baboso non puoi le cose così comunque ho cominciato con queste par si chiamavano par perché io avevo molto materiale avevo anche una cosa un eclair professionale tutto mio e adesso l'ho depositata al museo a Parma sono dei liberi professionisti o impiegati eccetera che sono dedicati al cinema e hanno fatto recentemente con l'università hanno fatto un'esposizione molto bella e devo dire la verità certe cose io non le conoscevo adesso è uscito un libro io avevo questo libro a casa pronto perché io l'ho scritto ho cominciato che c'era ancora Pasolini gli ho fatto vedere andava bene perché l'ho scritto in un linguaggio arcaico per simulare una cosa che c'è ma che stava passando e poi per simulare Pasolini che aveva molto di arcaico nella sua attività e all'inizio con Pasolini non so perché motivo non andava bene io lo attribuisco al fatto che avevano fatto un film l'isile un film che a me non piaceva però Alicata che avrei sentito nominare aveva scritto un fondo nell'unità dicendo che era una meraviglia eccetera eccetera invece questa meraviglia era il vigile che poi a un certo punto visto che le cose vanno come vanno si adegua alla cosa era proprio un'idea che era contraria a quello che pensavo io capisci però avevano paura perché facevo sceneggiatore io io avevo fatto il negro a sonego per diverso tempo no sì per esempio la spiaggia te lo ricordi quello l'ho fatto io certo e sono venuto via perché non mi metteva mai il nome capisci e mi dava mi pagava il ristorante dove mangiavo basta mi dava altro allora a un certo punto mi sono stancato e ho smesso proprio di fare quel mestiere sono passato a mi sono messo a studiare un po' di tecnica ne avevo abbastanza già per la scuola che avevo fatto e sono passato decisamente dall'altra parte della barca tutti si sono meravigliati ma perché non non sono cose che si pubblicano sul giornale comunque ti dirò che io sono andato a vederlo questo film e quando sono uscito ho trovato che c'era Somego Pasolini erano insomma quattro pezzi da 90 diciamo che mi venivano incontro e cosa mi ha detto ah come ti pare ah ho detto sì però sarebbe da parlarne a lungo eccetera e così e quando sono arrivato ho dato la mano a tutti eccetto Pasolini che non lo conoscevo l'ho data per ultimo lui se ne ha avuto a male penso questo sia il motivo per cui per un pezzo non ha mai voluto fare e invece mi è capitato di essere messo dietro della fotografia le cose capisci e lui non voleva saperne mi faceva dispetti che non ti dico una cosa e l'ho scritto nel libro ho raccontato tutto ho raccontato e però non lui non sapeva niente di cinema ha detto tra noi però non è una cosa che mi meravigliava perché tutti quelli che venivano erano neofiti perché in genere erano intellettuali eccetera che non sapevano distinguere un ago da un chiodo questa è la faccenda comunque sono andato avanti durante tutto il film lo leggerai adesso non lo so perché ti dirò sono in una situazione tragica con l'editore che non c'è perché è una storia complicata io non ho mai pensato di pubblicarlo così perché era morto Pasolini e allora non volevo l'ho finito in fretta e l'ho lasciato là lasciato là però ogni tanto lo facevo vedere a degli intellettuali soprattutto perché sono i più terribili e tutti mi dicevano oh devi pubblicarlo devi pubblicarlo invece io non l'ho pubblicato mi sembrava ad essere un 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 se lo leggi leggerai il funerale di attento ho fatto sto film che è venuto bene perché era comizi d'amore il film no il primo che ho fatto sì forse è comizi d'amore perché ne ho fatti tre un Pasolini il quarto ho rifiutato sì non ho voluto farlo perché lui è andato in Africa ha girato poi arrivati qua non non so forse non era nel loro spirito non riuscivano più a farlo allora mi hanno chiamato e sai essere chiamato a farla a pezza a piedi non mi piace e allora ho detto di no non l'ho fatto e dopo invece a un certo punto un film uccellati uccellini ecco mi hanno chiamato e dopo un po' anche il nostro si è convinto che valeva la pena e dopo mi ha chiamato altre volte poi io gli ho fatto un film a lui perché i giapponesi mi hanno dato per quattro anni un'esclusiva per il giappone di bianca e ogni mese dovevo mandare qualcosa di bianca allora un mese ho pensato di mandare Pasolini e gli ho fatto fare l'attore per punizione è andato ha avuto molto successo era uno short che avevo fatto e poi mi era venuto in mente di fare il film con lui perché ormai ero stufo di stare alla macchina presa queste cose così perché sei staccato invece se hai la regia oppure il tutto fare sei proprio dentro nel cinematografo e abbiamo preso Pasolini visto che aveva avuto successo il suo film in Giappone era entusiasta di sto film che gli avevo proposto eccetera eccetera e avevano già provato i giapponesi solo si doveva parlare lui invece stava facendo l'ultimo film che ha fatto insomma quello su le maschere sono andato a Coso che stava girando il film dell'acqua sporca e appena mi ha visto mi ha abbracciato così abbiamo avuto un appuntamento solo che io lavoravo molto in quell'epoca perché oltretutto scrivevo facevo altre cose e poi facevo gli aeroplani tra l'altro a un certo punto si diceva sono andato là mi ha abbracciato eccetera eccetera e si è messi d'accordo per vedersi perché lui doveva finire prima sto libro sto film io avevo da fare e lui era in Moviola una volta sono andato in Moviola ma lui doveva lavorare e allora abbiamo rimandato e rimanda rimanda lui è morto una mattina mi ha telefonato un regista sieriano che conoscevo e gli dice sai che hanno ammazzato a Pasolini che poi ti dirò che prima o poi io ero certo che sai chi fa chi vi lavora col fuoco una volta o l'altra si scotta le mani e io gli immagino io gli dicevo ma perché si può anche cambiare soggetto non andare a trovare proprio questa gente che erano quello che erano mi ricordo una volta che giravamo proprio uccellini uccellacci avevamo fatto quella scena dove ci sono tutti gli intellettuali che fanno gli imbecilli era stata una scena faticosa perché lui voleva non correggere mai la luce e siccome c'erano tre grandi locali dove ci sarà stata complessivamente una cinquantina di intellettuali veri veri allora io avevo fatto il sistema e la cosa funzionava funzionava e a un certo punto lui era stanco ma io non ero stanco e allora mi ha detto lei è stanco perché ci davamo di lei fino alla fine sì 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 e sai lui in principio il bago mi salutava certe volte poi che le desideri il tu dodo era la stessa comunque era la stessa cosa e niente abbiamo fatto la scena dei cari quello che Totò non volevano fargliela fare e abbiamo portato assai sì perché comunque ne parlo anche in sto libro perché in sto libro dico tutto quello che ti dirò che me l'hanno rubato questo libro e hanno pubblicato tre o quattro libri da questo libro e io sono stato un po' così poi l'ho pubblicato lo stesso perché tutti gli amici dicevano pubblica lo pubblica e l'ho pubblicato però l'ho fatto male perché avevo sempre delle difficoltà eccetera però il libro è venuto fuori sono sempre in discussione perché io ho dato da fare la prevefazione l'ho dato a fare a una tale che conoscevo perché era la mia coinquilina che era una che studiava all'università e poi aveva lasciato l'università e allora io l'ho convinta a riprendere l'università e studiare e lei si è messa a fare il teatro poi era abbastanza brava scriveva nelle varie riviste così e invece di prendere un luminare che potevo prenderlo ho preso questa qui questi non volevano dare perché volevano darmi una prefazione già fatta da un loro regista tra virgolette capisci così e io niente insomma alla fine hanno cominciato a diventare prepotenti e io guarda perdono tutti eccetto che i prepotenti i prepotenti proprio non li posso sopportare quella cosa di uccellaci uccellini allora c'era una specie di certame per rimanere nel classico e tra me e Pasolini perché Pasolini voleva far vedere che io mi stancavo e aveva proprio sbagliato difatti alla fine ha dovuto curvare la cosa e a dire no io non ce la faccio più e dovevamo fare questa scena e lui ha fatto non ho capito perché ha messo i cinesi che mangiavano le nidi di rondine poi sono andato in Cina e ho visto che mangiavano certi pranzi che non venivano più comunque l'idea era buona di prendere gli intellettuali e dire veramente cosa sono capisci e ha scelto dei volontari molti si sono ritirati a un certo punto ma i volontari che facevano discorsi senza senso le cose così insomma praticamente facevano la figura dei pagliacci come dovrebbe come e insomma la il lavoro è andato bene perché nessuno si è ritirato malgrado proprio passassero per imbecilli come effettivamente la maggioranza sono e poi c'era il finale dei cani dunque la cosa mi ha dato fastidio Pasolini perché Totò e Ninetto erano in un'anticamera perché ti ricordi il film ecco quelli erano due padre e figlio che avevano avevano un podere eccetera non avevano i soldi di pagare perché era andata male la cosa e allora andavano dal padrone e per far vedere l'umiltà il padrone veniva seppellito i due i due non padroni diciamo venivano seppelliti con due cani che erano veramente dei cagnacci e là ho dovuto approfittare Totò il quale la produzione aveva chiamato la comparsa eccetera eccetera invece Totò diceva no no voglio farlo io voglio farlo io allora hanno detto no che è una cosa pericolosissima allora voglio proprio farlo perché mi dispiace se un mio amico viene danneggiato per fare una cosa mia e lui l'ha fatto l'ha fatto erano gli ultimi tempi non vedeva più niente perché quando hanno fatto tutto a colori ecco per il beh non voglio dire male a nessuno ma hanno usato delle luci troppo forti e lui che era un grande attore guardava le lampade perché devi guardare le lampade così ti brillano gli occhi eccetera eccetera e gli ha bruciato gli occhi per cui io quando lui si spostava da un posto all'altro per esempio in un campo eccetera dovevo mettere una spot sapete tutti cos'è una spot come quella e dove lui doveva arrivare allora lui vedeva questa macchia di luce e seguiva la macchia di luce era un lavoro abbastanza complicato sapete perché poi lui era già vecchio di fatti è morto poco tempo dopo in un campo per esempio dove c'è l'erba ogni tanto si inciampava allora dovevi rifarla così però Ligio Totò era un carabiniere quando faceva le cose preciso poi non ho mai sentito lamentarli perché Pasolini faceva ripetere 50 volte a Ninetto le parti perché voleva che recitasse come Totò ma per recitare come Totò bisognava essere Totò capisci? non c'era possibilità allora faceva 18 19 battute di Ciac e lui non ha mai detto bah mai detto bah sempre zitto poi aveva preso a aver simpatia per me che mi ha fatto piacere perché mi ha raccontato tutta la sua storia è una storia affascinante una cosa è come un'umiltà che sembra che ti racconti la storia di sto pezzo di ferro e così di